Lascio a questo punto la parola al Commissario Guido Castelli per l'intervento dettagliato dei finanziamenti erogati. Abbiamo sviluppato delle strategie che noi veramente siamo praticamente contenti di registrare perché in termini di lavoro si danno a fare sempre meglio e di questo lo ringrazio perché ha esperienza, intelligenza e comprenza per farlo meglio. Non fare troppi complimenti che se non mi costringi a riportarmi in piedi o a riversarmi su una tua persona, grazie a tutti di questa partecipazione, se ne è parlato molto, si ha più o meno numeri, le cifre, è più o meno noto il fatto che alla fine le cose di buono si sta facendo, che questo è dal punto di vista anche dell'efficacia delle istituzioni molto importanti. Non vuole riguardare soltanto il fattore materiale delle case, delle aziende, delle mura, dei monumenti da ripristinare come erano in meglio il territorio, espone sempre quel territorio alla competitività, alla competizione e alla globalizzazione di un'azienda multinazionale pubblica. Oggi noi abbiamo risolto di accreditare, utilizzare e accreditare nel servizio sanitario nazionale. Abbiamo, il progetto consente di sviluppare un insediamento di albergo, scapi, ciline, vicine all'aperto, la confine e quindi oggi c'è un nuovo concessionario, speriamo che sia appunto l'inizio della fuoriuscita dal tunnel, l'altro è dei regni turistici che sono conversate, transiteriane, ad esempio, non so, non in mezza da una, da due ore da Napoli, gli uccelli che hanno presentato i comuni, le province, il parco, i parchi, anzi regionale nazionale e costituisco ogni...